Ciao a tutti, sono Oscar Farinetti, siete tutti invitati a ottobre da FICO, mi raccomando, FICO Italy World, FICO è l'acronimo di fabbrica italiana contadina, ma la verità è che l'abbiamo chiamato FICO perché sarà il posto più fico del mondo, non perdetevelo, l'unica maniera per celebrare la meraviglia della biodiversità italiana, divertendosi e studiando, due ettari di agricoltura, di campi, dove capiremo perché noi abbiamo 140 cultivar di grano duro e l'America ne ha solo 6, dove capiremo perché in Europa ci sono 1200 tipi di mele, 1000 in Italia e 200 nel resto d'Europa e poi le trasformazioni, le fabbriche, fabbriche contadine perché sono fabbriche artigianali ma di livello alto che producono, roba vera, quintali di roba, non un luogo, un luogo vero dove potrete capire cosa vuol dire essiccare la pasta a lenta conservazione per 48 ore anziché farlo in fretta a 90 gradi anziché a 40 gradi. Vedrete la meraviglia degli agrumi, dei pomodori trasformati, l'uva, vedrete un campo di una vigna con 1200 vitigni autotto, diciamo i primi al mondo e poi la vedrete trasformare, faremo la vendemmia e faremo il vino, poi faremo la birra, avremo campi di luppolo e di orzo, ma soprattutto ci saranno 40 ristoranti, oltre a un teatro, oltre a un cinema, oltre a una sala congressa, oltre a 6 carousel, 6 giostre, dove potrete andare in giostre e capire la storia millenaria tra l'uomo e il fuoco, l'uomo e l'agricoltura. Poi avrete 40 ristoranti a disposizione, dove ce n'è di ogni, potrete spendere 5 euro a mangiare o 150, come preferite, sempre bene però, in tutti i modi, dallo street food al ristorante formale, dove ci sarà la vera espressione dell'ossatura della biodiversità italiana offerta nella ristorazione. Quindi, vi aspettiamo, non mancate, a ottobre io sarò lì sulla porta ad aspettarvi e ad accompagnarvi. Ciao a tutti! Ciao a tutti!